Lo sfratto dei defunti del cimitero di Pescara Colle Madonna, portato all'attenzione dell'assessore di competenza, potrebbe trovare una soluzione, almeno per quanto riguarda la parte economica, la più incresciosa. La revoca delle concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975, per le quali siano trascorse almeno 50 anni, comporta di fatto l'estumulazione delle salme e un costo che va da 400 fino a 2000 euro. Una questione sollevata dai Cinque Stelle. Defunti sfrattati con tutti gli inevitabili dolori del caso, l'assessore Marierita Carota non ha potuto accogliere le richieste di chi resta a perorare la causa della concessione a suo tempo pagata. Le risposte ottenute però sono state assolutamente insoddisfacenti e hanno dimostrato una volta per tutte come l'intera vicenda si è stata gestita in maniera vergognosa, perché è emerso che in realtà non c'è una consapevolezza di quelli che sono i numeri reali di questa emergenza, non c'è la consapevolezza di quelli che sono ad esempio i loculi liberi e abbandonati che potevano essere già utilizzati per alleggerire intanto questa pressione. Quindi tutto lascia intendere che questo provvedimento sbrigativo sia stato fatto soltanto per fare cassa rapidamente sulle spalle dei cittadini e dei loro defunti, per cercare di limitare una situazione che è quella di oggi, ma con il pericolo che, liberato questo collo di bottiglia, di cui a poco si tornerà a dimenticare tutta la vicenda e a lasciare l'intera gestione dei cimiteri nella disorganizzazione che finora la contraddistinta. In occasione di uno degli incontri dei Cinque Stelle, una lettera scritta e firmata da una delle tante destinatari dell'avviso e indirizzata a sindaco, prefetto e vescovo di Pescara, richiama la legge la 241-90 e nello specifico l'articolo 21, che solleva il riconoscimento dell'indennizzo per il disagio arrecato. La soluzione economica è un totale rovesciamento di prospettiva. Il cittadino non sarebbe più tenuto a pagare alcunché, ma ad avere indietro qualcosa. Il Movimento Cinque Stelle annuncia la richiesta di fondi, resta poi la parte morale, e per quella non esiste indennizzo o risarcimento che dir si voglia, ma tocca rimettersi al senso di pietas. Qualche volta disatteso, rimarca, la firmataria della lettera, che preferisce parlare a telecamere spente e che oggi si è trovata lì, in quel contesto, per difendere i diritti di un caro che non c'è più e per dire che la decisione del sindaco è un'offesa al cattolicesimo.